Gentili telespettatori, ben trovati, sto per introdurvi un artista comunque realmente fuori ed è anche uno di quegli incontri particolari, è uno di quegli incontri che capitano così per una condivisione di sentimenti immediata. Beh, cosa vuoi? Mettemelo nel culo? Non lo so. L'arte cosa rappresenta per te Fabrizio? Niente. Cioè, niente, non rappresenta niente. Non me ne frega un cazzo. Vaffanculo. Non sono sufficienti questi minuti per dirvi chi è, è impossibile. Ha lavorato, tra virgolette, ma oggi lo scopriamo come artista. Ma oggi lo scopriamo come artista. Però prima di farvi vedere alcune opere che presento e vi propongo, sentiamo da Fabrizio un breve consuntivo di eventi della sua storia. Vaffanculo. Buongiorno. Grazie a tutti